Facciamo che giocavo a palla con Gesù bambino, e un angioletto azzurro mi cullava nel lettino. Facciamo che io ero la curiosità, e a ogni mia domanda qualcuno risponderà. Facciamo che io ero una fata per la città, e trasformavo tutto in un campo di milla. Facciamo che io sono io, e che tu sei tu, e insieme ascoltiamo la storia di Gesù. C'era una volta, c'era una volta, c'era una volta, ci saranno mille volte. C'era una volta, c'era una volta, c'era una volta, ci saranno mille volte. Mi chiamo Frederick, ho dieci anni, per quanto la quinta è elementare. Il mio sport preferito è il judo, ma pratico il tennis. La cosa che amo fare di più è disegnare, ma anche scambere le carte a Pokémon. A Gesù vorrei chiedere, perché esistono i ricchi e i poveri? Ciao bambini, ben ritrovati a caro Gesù. Ciao anche a te, Frederick, che carino il tuo cagnolino. Sono curioso di sapere come si chiama. Frederick, dato che fai tennis, perché non ci mandi un bel disegno di te che giochi con la tua racchetta? Così lo vediamo tutti quanti, sarebbe bellissimo. Frederick, la tua domanda è una delle più importanti. Perché esistono i ricchi e i poveri? Beh, intanto perché c'è gente che guadagna di più e gente che guadagna di meno. Ma ora con voi, bambini, voglio provare a riflettere su perché c'è così tanta disuguaglianza tra i ricchi e i poveri. Sapete, questo è un argomento che sta tanto a cuore anche al nostro Papa Francesco. Tante volte Papa Francesco ha ricordato alla società di oggi quanto sia importante avere un lavoro, un lavoro che consenta una certa dignità di vita, soprattutto dopo questo virus, che ha aumentato ancora di più la disuguaglianza tra i ricchi e i poveri. Allora, Frederick, uno dei motivi per cui mi vengono in mente, per cui c'è tanta disuguaglianza tra i ricchi e i poveri, è perché i ricchi a volte cercano di diventare sempre più ricchi. Quindi, sapete cos'è l'avidità, bambini? L'avidità è quell'atteggiamento per cui ognuno di noi vuole sempre di più e non gli basta quello che ha. Esiste l'avidità del cibo, volere sempre di più, mangiare sempre di più, l'avidità degli oggetti o magari dei giochi, vogliamo sempre più giochi, e anche l'avidità dei soldi. Ecco, quindi, quando i ricchi vogliono avere sempre più soldi, il loro cuore sta diventando avido. Sapete che nella Bibbia c'è una frase, ed è questa qui. L'avido non è mai sazio della sua ricchezza. E tutto questo, cari bambini, va contro il decimo comandamento. Vi ricordate i dieci comandamenti che Dio diede a Mosè? Ecco, l'ultimo è proprio questo. Non desiderare la roba ad altri. E quando qualcuno che è ricco vuole arricchirsi sempre di più, sta cercando di guadagnare, di impossessarsi di un qualcosa che potrebbe servire a un povero, che non ha neanche il necessario per vivere. E tutto questo, cari bimbi, non va bene. Non va bene che c'è così tanta disuguaglianza tra ricchi e poveri. Ma oggi voglio dirvi ancora una cosa importante. La vera povertà, cari bambini, non è tanto non avere i soldi, ma quanto la mancanza di amore, la mancanza di amore verso il prossimo e verso Dio. E quindi la mancanza di Dio nei nostri cuori. Madre Teresa di Calcutta ci ha insegnato, dando la sua vita completamente per i poveri, che la vera povertà non è tanto la povertà non avere i soldi, ma il non sapere amare né Dio né il nostro prossimo. Bene, allora è arrivato il momento di aprire il libro di caro Gesù, quindi venite con me, vediamo oggi cosa ci dirà. E lo spirito discese verso di lui come una colomba. Questa frase, bambini, ci ricorda proprio il battesimo di Gesù. Cioè, quando Giovanni Battista battezzò Gesù, dal cielo scese una colomba, scese lo Spirito Santo sotto forma di colomba. E oggi impariamo che la colomba è simbolo di pace e di salvezza. Vi ricordate che nel primo libro della Bibbia, nella Genesi, è raccontata la storia di Noè. Cioè, Dio aveva visto che tra gli uomini c'era tanta malvagità e aveva deciso di mandare sulla terra un grande diluvio che distruggesse tutto. Ma tra gli uomini aveva visto che ce n'era uno buono, cioè Noè. E allora disse a Noè che l'avrebbe salvato, ma non solo lui, avrebbe salvato anche la sua famiglia e il creato, quindi, gli animali. Noè salì sull'arca con tutti gli animali del mondo. E dopo questo diluvio liberò una colomba per vedere se Dio si era riconciliato con gli uomini e se il diluvio appunto fosse finito. La colomba tornò da Noè con un ramoscello d'olivo nel becco. Questo per significare che il diluvio ormai era finito e che le acque si erano ritirate dando spazio alla terra asciutta. Il segno, quindi, che la salvezza era arrivata per gli uomini. E noi cristiani sappiamo che la pace e la salvezza vengono proprio da Gesù. Eh sì, come la colomba di Noè rappresentò per lui la pace e la salvezza, così Gesù rappresenta per tutti noi uomini la pace e la salvezza donata attraverso la sua morte e risurrezione sulla croce. Ecco perché, cari bambini, la colomba è segno, è simbolo dello Spirito Santo, proprio per il battesimo di Gesù, ma è anche segno della pace, grazie alla storia di Noè. Quante volte i maestri e le maestre, quando ci hanno detto di fare un disegno sulla pace, noi abbiamo fatto una colomba. E poi è anche il motivo per cui a Pasqua noi mangiamo la colomba, questo dolce buonissimo. Voi, bimbi, quale preferite? La colomba... Ah, ecco, Martina è pronta con la sua storia. Allora, bambini, vi lascio a lei, mi metto a sentire la sua fiabba anch'io e vi do appuntamento la prossima settimana. Ciao, bimbi! Bentornato e bentornata qui nella mia terra incantata. La matrigna ha due figlie, ma una la detesta e per tormentarla le fa una richiesta. Anche se è inverno e non primavera, voglio un bucaneve, oggi, stasera. Sa che è impossibile questa impresa e la poveretta si è ormai quasi arresa. Quando trovo una radura dove stanno, tutti insieme i dodici mesi dell'anno. Come finirà? Sarete sorpresi. È la fiabba russa dei dodici mesi. C'era una volta una donna avara che aveva due figlie. Una era la sua figlia vera e l'altra la figliastra. E la figlia vera non la sgridava mai, anche se era una pigrona che passava tutta la giornata sul divano a mangiare dolcetti e non alzava mai un dito. La figliastra invece doveva darsi un grande affare. La matrigna le faceva fare tutte le faccende domestiche della casa e la spediva anche nel bosco, spesso a far la legna, a raccogliere frutta e a raccogliere piante. Ma non si lamentava mai e faceva tutto sempre di buon grado. Arrivò infine un inverno gelido. Era un mese di gennaio particolarmente freddo. La gente non vedeva l'ora di rintanarsi in casa la sera. La figliastra aveva lavorato tutto il giorno in cortile a spalare la neve che continuava a cadere. Finalmente era in casa, davanti alla stufa. Si riscaldava e si riposava e intanto faceva la calza. La matrigna andò alla finestra e scostò la tenda. Guardò la bufera di neve che infuriava fuori. Poi rivolse lo sguardo alla figliastra e le disse «Prendi lo scialle, in fretta, prendi il cestino ed esci, vai nel bosco, a raccogliere un po' di bucaneve perché domani è l'onomastico di tua sorella e vogliamo festeggiarla». La figliastra pensava che la matrigna scherzasse e con un filo di voce le rispose «Ma è gennaio, ma è presto per i bucaneve. Prima di marzo non ce ne sono. Non troverò nulla nel bosco se non freddo e neve e buio. Mi perderò». «Beh, anche se ti perdessi, nessuno sentirebbe la tua mancanza», rispose la figlia pigra, quella che stava sul divano. «E sbrigati ad andare perché io voglio il bucaneve per il mio onomastico, non hai sentito?» La figliastra prese a tremare non per il freddo, ma per la paura. Però prese lo scialle, il cestino e uscì nella tormenta di neve. Camminò e camminò verso il bosco, faceva un freddo ed era buio, si vedevano solo i fiocchi di neve e poi nel bosco neanche quelli. La ragazza ad un tratto decise di fermarsi. Si sedette sul tronco di un albero, pensando che congelare qui o congelare là non cambiava proprio niente. Quella era la sua fine. E mentre se ne stava lì a disperarsi, vide una luce poco più avanti e pensando che fosse magari il falò di qualche cacciatore o una casetta, si avvicinò. Arrivò in una radura dove c'era davvero un falò e intorno al falò dodici stranieri. Alcuni erano vecchi, altri erano giovani, tutti vestiti con abiti sontuosi, d'oro, d'argento, alcuni di broccato verde e la ragazza li fissò sbalordita. Il più vecchio si voltò verso di lei e le chiese «Ma che cosa ci fai con questo freddo, con questo buio in giro per il bosco?» «E sono venuta a cercare dei bucaneve». «Bucaneve a gennaio, ma questa non si è mai sentita, cosa ti è venuto in mente?» «Ma non è venuto in mente a me, è stata la mia matrigna», rispose la ragazza e racconta tutta la storia. I dodici stranieri si guardarono senza dire nulla e poi uno dei più giovani balzò in piedi e fece «Ma dai fratelli, la conosciamo tutti questa ragazza, tutti l'abbiamo incontrata almeno una volta nel bosco, conosce la natura, rispetta le stagioni, posso aiutarla, per favore fratello gennaio?» E quello più vecchio di tutti rispose «Ma fratello marzo, fai come vuoi, ma prima devi chiedere il permesso a febbraio perché c'è lui prima di te». E un altro, più anziano, disse «Va bene, per lei possiamo farlo». Ora, il più vecchio di tutti, quello chiamato gennaio, aveva un bastone che sembrava quasi uno scettro e lo battè a terra dicendo «Gelo non gelo, di neve solo un velo». La ragazza sentiva che qualcosa stava cambiando, ma non sapeva cosa. Poi gennaio diede il bastone a febbraio che disse «Vento non vento, solo un momento». E poi diede il bastone a quello giovane marzo, che a sua volta disse «Gelo non gelo, vento non vento, fiori fiorite, marzo un portento». La ragazza sgranò gli occhi perché il bosco adesso sì che era cambiato, la neve si era sciolta, si erano dischiusi boccioli di fiori e gemme sugli alberi e c'era un'aria frizzante, un'aria di primavera. «Non stare l'impalata, abbiamo soltanto un'ora, vieni», disse marzo. La prese per mano e la portò con sé nel bosco. Ma già dopo pochi passi la ragazza ai suoi piedi vide uno stuolo di bucaneve appena nati, profumatissimi. Non riusciva a credere ai suoi occhi, ma non voleva perdere tempo. Si inginocchiò a terra, raccolse una bella manciata di bucaneve, riempì il cestino e poi ne prese altri, altri ancora, tutti li mise nel grembiule. Tornò dietro alla radura, ma il falò non c'era più e neanche gli stranieri avrebbe voluto ringraziare, ma non c'era tempo. Corse a casa approfittando del fatto che non stava nevicando e, proprio quando entrò dalla porta, fuori, ricominciò a ululare il vento, a nevicare. «Sei già di ritorno?» fece la matrigna. «E dove sarebbero i bucaneve? Come hai fatto in così poco tempo?» e la ragazza vuotò sul tavolo il cestino al grembiule e la matrigna e la figlia guardarono senza capire. Allora la ragazza spiegò tutta la storia e alla fine la sorella pigra disse «Sei stata davvero una sprovveduta! Hai incontrato i dodici mesi e hai chiesto soltanto dei bucaneve, poveraccia! Fossi stata io al tuo posto avrei saputo come comportarmi. Avrei chiesto pomodori dai mesi estivi, avrei chiesto fragole da giugno, avrei chiesto castagne da settembre e...» «Ma quest'idea è fantastica, figlia mia!» disse la matrigna e le porse uno scialle. «Vai tu, vai subito! Sapevo che avevi sempre buone idee, è il tuo turno di fare fortuna! Vai, so già che sai cosa fare!» La figlia pigra uscì nella tormenta con il cestino diretta verso il bosco, diretta verso la radura dove la sorella aveva incontrato i dodici mesi. Ed eccoli lì i dodici stranieri intorno al falò. La ragazza si avvicinò spedita senza salutare, senza chiedere permesso per scaldarsi perché faceva veramente molto freddo. «Ma tu chi sei?» chiesero gli stranieri. «Non ti abbiamo mai vista qui!» «No, non mi avete vista, però avete incontrato mia sorella, so che le avete dato i bucaneve. Sono venuta a chiedere altre cose, dunque vorrei da luglio dei pomodori, vorrei delle castagne da settembre e da maggio vorrei delle rose fresche, rosse mi raccomando, e delle fragole a giugno in fretta, sbrigatevi, non voglio stare tutta la notte qui fuori». Il più vecchio gennaio si mise a ridere. «Mia cara, tu vuoi l'estate in inverno, ma non è possibile! Adesso è il mio turno di governare, il turno di gennaio!» «Ma gennaio non lo vuole nessuno!» rispose l'altra. «È un mese freddo e non serve a niente!» Gennaio si fece scuro in volto, non disse una parola, alzò il suo vestito e dall'ampia manica iniziò ad uscire neve e vento, una vera e propria bufera. La ragazza pigra improvvisamente non vedeva più nulla, solo neve che turbinava intorno a lei e iniziò a vagare per il bosco in cerca della strada di casa, imprecando contro i mesi. La matrigna, non vedendola tornare, uscì fuori a cercarla. Anche lei finì nella tormenta nel bosco e che io sappia le due stanno ancora vagando nella neve, anche oggi. La ragazza operosa invece lavorò ancora sodo, fece fortuna e andò a vivere in una bella casetta con giardino. E tutti dicevano che era una casa fortunata, perché lì i fiori fiorivano un po' prima degli altri, i frutti maturavano sempre un po' prima, in inverno non faceva mai troppo freddo e in estate all'ombra c'era sempre un bel fresco, come se in quel giardino vivessero tutti insieme i dodici mesi. E chissà, forse era proprio così. E larga è la foglia, stretta è la via, dite la vostra, che ho detto la mia. Ciao a tutti e alla prossima storia. In verità, gli uomini perdono tutto ciò che lasciano in questo mondo, ma rimarrà il valore della loro carità e delle lemosine che hanno fatto in vita. E per questo riceveranno dal Signore la giusta ricompensa nel mondo che verrà. Solo ciò che è eterno può saziare la nostra anima immortale, e il cuore di Francesco era una grande osi in cui le persone si ricaricavano di energia per continuare il cammino in questo mondo in direzione del cielo e di Dio, l'eterna fonte. Ricordi quando non conoscevamo questa verità? Diventare un guerriero era il sogno di Francesco, ma non per essere virtuoso, lottare per il bene e difendere i deboli, ma piuttosto per alimentare il suo orgoglio. Io non ho paura di nessuno! Francesco sentì un suono di campanelle e sapeva bene da chi proveniva. Erano i lebrosi che in quel periodo gli comunicavano un sentimento di orrore. Francesco non aveva paura dei mendicanti, anzi, ammirava la piccola Chiara d'Assisi, che li trattava con molto affetto. Ti ringrazio, che Dio ti benedica. Francesco si sentì ispirato da Santa Chiara, ma al contrario di lei lo faceva per vanità. E la vanità è la madre di tutti i vizi. Chiara sorrise dolcemente, perché si accorse che Francesco non aveva capito che era una questione di amore e non di denaro. Eccolo, arriva il mio grande amico Lazzaro. Vieni con me, Francesco. Voglio presentarti il mio amico. Tieni. Francesco approfittò di un loro momento di distrazione e fuggì senza che se ne accorgessero. Ah, come è breve la vita dell'uomo sulla terra. Francesco, che il giorno prima era pieno di energie, al risveglio non si sentiva bene. Donna Pica era la madre di Francesco, una signora dolce e anche molto forte. Fu lei a donare al figlio la più grande delle ricchezze, l'insegnamento religioso. Le parole, ti voglio bene, possono essere dette in un altro modo. Mi prendo cura di te. Ed è quello che la madre di Francesco fece per parecchi mesi. Non potendo uscire di casa, Francesco cominciò a riflettere su se stesso. E poco a poco iniziò ad avvicinarsi a Dio, che stava per fargli una grande grazia. Sentì una pace profonda ed ebbe una nuova consapevolezza. In quel momento, la strada che conduceva a Dio sembrava più luminosa. Si vergognò di come si era comportato fino a quel giorno e sentì che doveva cambiare profondamente. Aiutami, per amore dell'amore. Non mi tocchi, per favore, non mi faccia del male. Non mi tocchi, per favore. L'angelo del Signore si avvicinò più volte al letto del piccolo San Francesco e gli diede saggi insegnamenti. La gioventù passa e se ne va come il vento davanti alla nostra porta, come le onde del mare che diventano grandi come montagne per poi trasformarsi di nuovo in schiuma. Qual è la consistenza del fumo? Qual è il peso della gloria su una bilancia? Non c'è nulla in cielo e sulla terra che abbia peso e consistenza, a parte l'Eterno. Figliolo, ti senti meglio? Mamma, che bello vederti. Aiutami ad alzarmi, sto meglio. Francesco non si era mai sentito così vivo e forte dentro, ma purtroppo il suo corpo era ancora debole. Dopo aver fatto quel viaggio interiore e aver scoperto tanti bellissimi orizzonti dentro di sé, era ora di vedere il mondo con occhi nuovi. Evviva! Io mi ricordo di ogni piccolo dettaglio, ma è grazie al tuo coraggio se ora vediamo quello che un tempo non vedevamo. Gli ultimi saranno i primi. Ci sei arrivato dopo di noi, però sei riuscito a superarci tutti in quanto a generosità. Poteva anche andare in modo diverso se Dio non mi avesse fatto la grazia. Il suo cambiamento di vita ebbe ripercussioni in tutta Assisi e Chiara, vedendo l'allegria contagiosa di Francesco, decise di accompagnarlo in questa avventura e di intraprendere quindi la vita religiosa. La gioia di Chiara illuminava la notte più della luce della torcia e dello scintillio delle stelle. Sposa valorosa del re immortale, ti diamo il nostro benvenuto. È tutto pronto. Gesù è lo sposo, nostra signora sarà l'ufficiante e gli angeli faranno da testimoni. Però ti avverto che stai per sposare un vedo. La sua prima moglie si chiamava Povertà e oggi è una regina detronizzata ed esiliata. La nuova moglie prenderà il posto della precedente. Ecco qui il tuo vestito. Il vestito era di un tessuto poverissimo, ma continua a brillare ancora oggi grazie alla devozione di Santa Chiara per Gesù Cristo, l'amore dell'anima sua. Fratello Francesco, non capisco una cosa. Tu potresti aiutare molti più poveri se fossi ancora ricco. Io sono ricco. Guarda l'ampiezza delle pareti di casa mia. E per detto ho il cielo. Ho rinunciato a tutto per possedere tutto. Potrei sempre dare qualche monetina ai poveri che le prenderebbero e mi lascerebbero in pace. Non mi chiederebbero altro. Ma io non li voglio allontanare. Se io dessi loro del denaro sarebbero felici per qualche tempo. Però la ricchezza che ho da offrire adesso è per sempre. Il ladro non ruba e la ruggine non corrode. Io diffondo la parola di Gesù. Ti ringrazio molto e capisco benissimo. A volte mi sorprendo quando qualcuno mi regala un bicchiere d'acqua oppure qualcosa da mangiare. Ma preferisco un sorriso a del cibo e l'affetto all'elemosina. Chiara come l'acqua Chiara come l'aria Chiara come le notti di luna piena Chiara come il cielo Chiara come il sole Chiara stella polare Sei il mio faro Illumina ogni città E placa la mia fame Chiara è la bontà Chiara come il tuo nome Babbini, babbine Non volate via Preparate carta, forbici e colla a caldo Dindon Art è pronto a proporvi una super idea creativa E riscaldate la voce per cantare con suor Roberta A fra poco! Facciamo che io ero la curiosità E ogni mia domanda qualcuno risponderà Ciao babbini, ciao babbine Sapete come si dice? L'epifania a tutte le feste le porta via Che tristezza È ora di tornare a scuola Ma rallegriamoci guardando i vostri disegni Oh, questo me l'ha spedito Penelope Ma è come la tessitrice Chissà se tu sai tessere Lo faceva tua nonna probabilmente Oggi i vestiti li compriamo già belli fatti Ma è un nome molto antico È infatti la sposa di Ulisse Vorrei essere anch'io come Ulisse Navigare per i sette mari Anzi, volare! Sai Penelope Tutte quelle stelle e la stella cometa mi fanno venire già nostalgia del Natale E anche quel cappellino così festoso mi fa pensare che trascorso le vacanze piena di gioia e di amore Bambini e bambine fate come Penelope e mandateci i vostri lavoretti a caro Gesù senza accento sulla U chiocciolatv2000.it E poi mi è arrivata questa foto dalla scuola elementare Anna Franz Celli di Roma È il presepe realizzato dai bambini della scuola Com'è originale ma avete visto che carine le pecorelle fatte con i sassi? Ma i personaggi le riconoscete? Sono quelli che ha realizzato qualche settimana fa Don Dino Vieni a vedere Don Dino Eccomi Tommasino che arrivo di corsa E ho avuto modo di vedere questi lavori meravigliosi Complimenti Complimenti Bambini anzi fatecene avere tantissimi perché siamo curiosissimi di vedere la vostra creatività messa in opera O no? E adesso? E adesso? Naturalmente adesso andiamo a scoprire quello che è l'oggetto misterioso abbiamo dato degli indizi la settimana scorsa i nostri bambini hanno avuto modo di ragionare su tutti quanti avevamo li ricordiamo il mare poi avevamo un gabbiano avevamo il paguro ed infine un bambino che con la mano sta ascoltando qualche cosa questo dovrebbe aiutarci perché l'oggetto misterioso di oggi è la conchiglia ed era semplicissimo allora bambini l'oggetto quindi l'abbiamo scoperto è proprio la conchiglia e con questo oggetto andremo a realizzare qualche cosa di veramente simpatico e creativo che cos'è? guarda un po' che Tomasino è super curioso ho pensato di realizzare un album questo che ho realizzato è il mio battesimo con dentro lo spazio per contenere tutte le nostre fotografie perché no in questa metterci quelle proprio del nostro battesimo allora sei curioso di sapere come si realizza? ma certo voglio farlo anch'io e cominciamo subito allora prima operazione da fare prendiamo dei cartoncini ce ne occorrono il numero sufficiente per le pagine io ne farò uno piccolo quindi ne utilizzerò solamente tre di cartoncini però sono sufficienti per mettere tante foto ciò non toglie che ne possiamo realizzare tanti di album anche mille? mille sono un po' troppi però un numero dieci album li possiamo realizzare uno per ogni festa per il compleanno per il battesimo ma chi le stampa più le foto ormai? usano tutti i cellulari? questo è un problema infatti i nostri album ci vengono in soccorso per modo tale che le stampiamo e le mettiamo all'interno però non farmi perdere troppo tempo altrimenti i bambini a casa si annoiano pieghiamo un foglio in due in questo modo che cosa andremo a fare ora? stando molto 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 attenti con il mio taglierino e quando utilizziamo strumenti un po' pericolosi dobbiamo farci aiutare da quelli più grandi quindi bambini il taglierino si utilizza con la mamma con il papà con il fratello più grande andremo a creare delle piccole asole vale a dire dei piccoli buchetti che serviranno poi per fare un lavoro particolare e come facciamo? ecco quindi ritagliamo questi piccoli quadratini in questo modo stando attenti a non tagliare il supporto sotto e le dita sopra io sono stato delicatissimo perché mi sono dimenticato di prendere un supporto per non tagliare il tavolo però sarò attentissimo voi bambini naturalmente potete utilizzare per fare questo lavoro anche il tagliere che si usa in cucina quello una volta pulito lavato e asciugato per bene andrà benissimo quello che lo utilizziamo per cucinare tantissime pietanze da mangiare soprattutto le verdure ma le noccioline sono verdure? no le noccioline non sono delle verdure sono noccioline anche perché le noccioline tu le mangi già tostate o le mangi crude? come le preferisci? a me piacciono crude cotte caramellate non avevo dubbi Don Dino ma ascolta dimmi nella tua parrocchia hai mai fatto qualche battesimo? qualche ne ho fatti tantissimi sono tanti anni che sono sacerdote quindi ne avrò fatti forse più di 200 no più di 200 sicuramente ormai i bambini che ho battezzato il primo anno che ero sacerdote sono già grandi andranno alle scuole medie ma ti vengono a trovare ancora? forse ci vedranno anche su caro Gesù sì che mi vengono a trovare e allora salutiamoli certo li salutiamo tutti i bambini battezzati da Don Dino allora ho fatto questo lavoro guardate attentamente quindi quando lo apriamo è così ne occorrono tre io ve li sono già preparati per una questione di tempo e di velocità quindi il materiale misterioso di oggi erano le conchiglie poi io ho utilizzato un bello spago ma possiamo utilizzare anche dei vecchi nastrini che abbiamo in casa o altro materiale che mi servirà per rilegare il tutto allora questo che vi ho fatto vedere ho creato una sorta di piccolo di piccola piega però questa volta voglio fare con lo spago a vista perché è molto più bello Don Dino ma sai che anche a me serve lo spago? per farci cosa? perché ti do sempre spago che spiritoso il nostro Tommasino se non ci fosse lui con le sue super battute divertentissime anche con le mie super canzoni I'm singing in the rain I'm singing in the rain tenevo proprio questo Tommasino mi chiedevo ma perché? perché non prendi esempio da Giuliano il pellicano? perché? vedi? sta lì? buono? tranquillo? sereno? ma lui sta zitto! non parla? Giuliano tu non canti? non canta? non parla? niente dovresti prendere esempio da Giuliano lui è lì sito tranquillo sereno invece lui deve cantare ma io mi diverto e cantando naturalmente i bambini perde tempo e non fa il lavoro che deve fare giusto a che punto eravamo rimasti? ecco ah visto allora sono sono rimasto al punto che ho iniziato già a legare quindi sono andata un pochino avanti uno due e tre e tre è l'ultimo poi passo alla parte più divertente però eh sai qual è? qual è? qual è? le decorazioni che mi divertono tantissimo allora chiudiamo e tagliamo ma dino ma questi lavoretti vedete che carino bambini? li fai anche con i bambini in parrocchia questi lavoretti? certo gli stessi che ho battezzato che adesso sono diventati grandi fanno questi lavoretti e siamo veramente contenti perché ci ritroviamo quasi ogni settimana per fare queste idee creative allora ti faccio vedere ora come si realizza questa cornice perché è un pochino complicato quindi stai attento e sigilla il becco lo sigillo con lo spago mi raccomando allora bambini ci occorrerà un foglio quadrato quindi un modulo quadrato in questo modo lo andremo a piegare prima da una parte trovando questa diagonale e poi dall'altra parte tracciando la seconda diagonale ora la punta andrà portata al centro in questo modo la punta andrà portata al centro in questo modo la terza punta la terza punta Tommasino dove? al lato al centro al centro uguale quarta punta al centro in questo modo perfetto ora apriamo di nuovo e bisogna fare la punta la portiamo su questa piega che si è ottenuta così questa la portiamo sulla piega ottenuta è molto più semplice a farsi che a dirsi bambini se vedete questa operazione è molto 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 semplice perché poi con un punto di colla a caldo guardate un po' si ottiene una piccola magia perché andremo a chiudere così così anche questo anche il terzo anche il terzo bravissimo e anche il quarto e voilà hai capito Giuliano prendi appunti ma Giuliano è attento su questo sei tu sempre distratto e chiacchierone Tommasino non lo so mi sembra pensieroso Giuliano il pellicano lo incollo al centro e voilà ed ora passiamo a decorarlo con il nostro spago questo mi piace tantissimo perché lo rende ancora più naturale questo spago quindi lo utilizzo sempre con piacere quindi facciamo delle linee decorative così mettiamo un punto di colla a caldo senza scottarci l'hai mai fatto per qualche per qualcuno dei tuoi battezzati in parrocchia questo album? questo no però ne ho fatti per ma sarebbero troppi da realizzare ogni mese ne battezzo tantissimi quindi però ne ho fatti per dei compleanni e dentro ci conservo anche i ricordi i viaggi tanti viaggi che conservo all'interno quindi metto delle foto e poi le conservo un giorno sarai curioso di vedere una tua foto del battesimo non ne ho adesso però te la porterò dai oh sì promesso che te la porterò io invece le tue le ho viste che eri in plume senza piume piccolo piccolo con un becco gigante tu hai visto anche le mie foto da uovo sì prima ancora era un uovo tutto colorato allora la conchiglia con la nostra conchiglia finalmente ma Tondino ma perché la conchiglia? allora la conchiglia devi sapere che è un oggetto che ci riporta alle nostre origini perché la conchiglia è quello strumento che veniva utilizzato per battezzare quindi ci riporta alla bellezza della nostra vita ci riporta alle origini e poi i pellegrini la utilizzavano addirittura come stoviglie quindi se tu guardi una delle immagini più particolari che è San Giacomo di Compostella lui ha proprio questa conchiglia che utilizzava per bere e per mangiare quindi ha sempre questo significato anche di accoglienza è vero quando svolazzavo in Spagna sopra il cammino di Santiago vedevo tanti i pellegrini con le conchiglie certo quindi la conchiglia è questo questo bel elemento che ci permette anche di creare anche delle decorazioni molto particolari ogni tanto entrando svolazzando nelle chiese che erano aperte ho visto anche le acqua santiere a forma di conchiglie bravissimo anche le acqua santiere hanno questa forma quella di accogliere l'acqua e ci ricordano anche un po' la conchiglia quindi il nostro il nostro album del battesimo è pronto questo lo vogliamo fare invece per i nostri viaggi si ok allora faremo i miei 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 viaggi w x y no smettila che mi fai sbagliare domasino viaggi con due g mi confondi quindi dentro conserveremo tutte le foto dei nostri fantastici viaggi piaciuta questa idea super creativa è bellissima l'abbiamo realizzata con poco allora adesso se vi siete persi qualche passaggio andiamo al nostro rivediamo insieme per realizzare il nostro album partiamo proprio dai fogli che lo comporranno quindi pieghiamo tre cartoncini al centro creiamo le nostre piccole asole occorrerà fare tre piccoli quadratini con il taglierino stando molto molto attenti e lo facciamo per tutti e tre i fogli passiamo ora a legarli con uno spago oppure con dei nastrini o quello che preferiamo in modo tale da renderli e reggerli tutti e tre insieme passiamo ora a decorare quindi andremo a realizzare la nostra piccola cornice da un modulo quadrato portiamo le punte al centro ancora al centro portiamo gli angoli li pieghiamo e creiamo la piccola cornice che servirà per accogliere la nostra conchiglia la piccola bottiglia oppure altri elementi che preferiamo li incolliamo al centro decoriamo con un bello spago con tanti altri elementi che preferiamo e diamo il titolo al nostro album noi abbiamo realizzato quello dei nostri viaggi quindi scriviamo i miei viaggi i nostri album creativi sono prontissimi allora Tomasino anche questa settimana una simpatica idea che ci ricorda un po' le nostre vacanze il caldo dell'estate anche se adesso siamo in questo tempo meraviglioso guardate il nostro bosco è tutto innevato anzi io e Tomasino abbiamo preparato due pupazzi di neve guardate che belli voi bambini ne fate fateceli vedere fateceli avere le foto le piccole costruzioni dei vostri pupazzi di neve perché siamo curiosissimi dai l'appuntamento ma certo e fate anche i pupazzi di neve a forma di pappagallo mi raccomando mandateceli a caro Gesù senza accento sulla U chiocciola tv2000.it ciao bambini tanto tempo fa nell'antica Roma i soldati tornati dalla guerra facevano baldoria nelle locande della città in una di queste lavorava come cameriera Elena una ragazza umile e gentile nata dalla famiglia di Unoste ancora giovinetta viene data in sposa ad un famoso soldato Costanzo ben presto nominato Cesare cioè vice imperatore una volta diventato importante però Costanzo si sceglie una moglie più nobile e caccia la povera Elena la ragazza è costretta ad andarsene da sola con il loro bambino ancora molto piccolo ma il buon Dio ha voluto che proprio quel figlio di nome Costantino diventasse imperatore tra i più grandi di tutta la storia romana e il più grande di tutti per i cristiani un giorno mentre si preparava ad una battaglia importante per conquistare Roma gli appare una croce luminosa e Costantino preso da tanto stupore si converte alla fede in Gesù secondo una leggenda fa disegnare sulle bandiere dell'esercito i simboli cristiani e vince i suoi nemici proprio in nome di Dio da quel giorno una legge dà ai cristiani di tutto l'impero la libertà di credere e pregare basta persecuzioni basta paura anche Elena si converte e abbraccia la fede cristiana e da allora spese tutta la vita in elemosina e opere di bene per i più poveri a partire da Gerusalemme dove aveva predicato Gesù e poi in tutto il mondo fece costruire splendide chiese per i cristiani ed è lei ad aver fatto cercare i resti del santo sepolcro e le reliquie della vera croce di Cristo che sono conservate e pregate proprio a Roma nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme ciao bambini che bello ritrovarci oggi è una festa particolare è la festa del battesimo di Gesù è la domenica del battesimo del Signore certo è una festa importante facciamo tante feste siamo passati da una festa all'altra e adesso però in effetti questa è la festa che chiude il tempo di Natale il tempo delle feste potrebbe venire un po' di malinconia potreste essere bambini un po' come i ragazzi che con me che vengono con me al campo io ricordo ormai sono da tanti tanti anni che tutte le estati o anche l'inverno partiamo per un campo un campo è un'esperienza di una settimana di un po' di giorni dove si sta insieme si gioca si ascolta la parola di Dio si conosce meglio Gesù e ci si conosce fra di noi quando si torna a casa l'ultimo giorno di campo i bambini i ragazzi sono sempre un po' così un po' tristi preoccupati di tornare a casa perché è finita la festa e allora forse quando finisce il tutto il Natale il tempo di Natale magari ci viene pensato questo l'inverno la neve il freddo bisogna coprirci cappucci sciarpe berretti ecco allora potrebbe venire un po' di malinconia invece il tempo è davvero la vera festa perché pensate quante cose belle accadono nel tempo noi abbiamo davanti un intero anno impareremo a conoscere nuovi amici faremo delle cose che non abbiamo mai fatto magari impareremo delle cose nuove insomma è un inizio bello quello che abbiamo davanti a noi anche l'inverno è bello è bello giocare con la neve mica è solo freddo da coprirsi allora il battesimo di Gesù è un po' lì che sta tra il tempo di Natale e questo nuovo inizio ci saranno tante cose belle che il Signore ha preparato per noi intanto la cosa bella di questa settimana è proprio il battesimo di Gesù Gesù viene battezzato da Giovanni a un momento molto importante perché da questo momento Gesù riceve lo Spirito Santo ed inizia la sua missione ufficiale cioè comincia a percorrere le strade della Palestina dicendo Dio vi ama Dio vi ama tornate a Dio perché il Signore vi vuole bene Gesù è il Messia l'inviato dal Padre per dire l'amore di Dio allora al battesimo in riva al Giordano quando Gesù è battezzato da Giovanni lo Spirito Santo discende su di lui in forma di colomba si aprono i cieli e la voce del Padre dice ecco questo è il Figlio mio l'amato ascoltatelo lo Spirito Santo è Dio non so gli spiritelli quelli non esistono bambini lo Spirito Santo è l'amore persona è l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio lo Spirito Santo è Dio che viene ad abitare in noi è la potenza di Dio in noi che ci fa amare come ama Dio in maniera incredibile Gesù riceve lo Spirito Santo come noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo il giorno del nostro battesimo siamo diventati anche noi figli anche di noi il Padre dice tu sei mio figlio io ti amo ecco allora bambini mi raccomando fatevi raccontare dai vostri genitori il giorno del vostro battesimo quando avete ricevuto per la prima volta lo Spirito Santo che adesso vogliamo invocare con un canto perché lo Spirito Santo è sempre bello chiamarlo e dirgli vieni Spirito Santo vieni io ti aspetto tu sei mio amico sei Dio mio amico allora insieme con me bambini vieni Spirito forza dall'alto nel mio cuore fammi rinascere signore Spirito che cos'è questa voce e che cos'è vieni Spirito forza da ma Tommasino ma c'è Tommasino ma sei venuto a trovarmi ho sentito che parlavi di Colombe e allora sono volato da te ma incredibile Dondino ti ho rubato Tommasino Tommasino ma io sono più intonata di Dondino vero? sei qui per questo ma certo molto più intonata ma che bello senti vogliamo cantare insieme? ma certo non chiedo di meglio ma meraviglia cantare con Tommasino è stato sempre il mio sogno bambini allora lo facciamo insieme con me e con Tommasino allora forza pronti vieni Spirito forza dall'alto nel mio cuore fammi rinascere Signore Spirito Tommasino vai ancora vieni Spirito forza dall'alto nel mio cuore fammi rinascere Signore Spirito come una fonte vieni in me come un oceano vieni in me come un fiume vieni in me come un fragore vieni in me qua Tommasino bravo grazie bravo grazie grazie su Roberta è intonatissimo bambini quasi più bravo di me quasi eh no no mai più bravo di te che tantino non mi fa mai cantare bravo Pappagallo resta umile perché Tondino adesso vedrai che la prossima volta secondo me lo fa cantare quando vede come cantiamo bene insieme ci riproviamo va bene dai dall'inizio vieni Spirito forte eh sì vieni Spirito forza dall'alto nel mio cuore fammi rinascere Signore Spirito come una fonte vieni in me come un oceano vieni in me come un fiume vieni in me come un fragore vieni in me bravo bravo Tommasino grazie senti io mi sono divertita tantissimo anch'io torni ma certo ogni tanto senza farlo sapere a Dondino verrò a trovarti sarà difficile non farglielo sapere però io ti aspetto quando puoi vieni da me molto volentieri un abbraccio becco sua Roberta ciao che bello bambini ciao ci vediamo la settimana prossima ciao non dire così adesso farò chissà cosa farò adesso ecco perché cari bambini la pace è il segno e hai ragione bravo Tommasino che bello che bello poi c'era un gabbiano poi c'era il paguro il paguro il paguro e Alessandro devo partire dal giù in fondo ok e vado nelle telecamere oggi posso dirlo eh già posso dirlo